Siamo all'antica Bagnara, ristorante e pizzeria in Marina di Vietri sul mare, prepariamo specialità di pesce e siamo anche una rinomata pizzeria. Abbiamo un gazebo spazio all'aperto dove possiamo ospitarvi, godiamo di due salette, una più piccola qui a Piano Terra che dà su questa fantastica zona sotto vincolo della sovrintendenza che vi invitiamo a vedere, a prescindere dal fatto se venite o meno a consumare. Siamo all'interno praticamente di una parte di un sistema di terme romano, ossia un calidario, siamo praticamente nella storia, non si sa ma sicuramente risalente ai romani, quindi 2000 anni avanti Cristo, più romani che ci fanno compagnia. Dicevo godiamo di due salette, una più piccola a Piano Terra e una più ampia a Piano Superiore, siamo disponibili per tutti i vostri eventi, feste anche in estate con uno spazio all'aperto fruibile al centro di Marina. Chiaramente l'Irpinia si distingue quindi sono delle eccellenze, io sono un patito dei vini campani, in particolare più vicini alla filiera breve possibile. Stasera abbiamo preparato per voi una sorta di degustazione di prodotti a base di pesce, quindi polpettina di mare, alici fatta in più modi, quindi variazioni di alici, polpo all'insalata, insomma un po' di cosettine, poi faremo un piatto con i frutti di mare e un po' di grigliata, un po' di fritturina. Avremo modo di accoppiare le tre punte della casa vinicola, quindi faranghina piano al greco, giusto? Perfetto.